If I am crazy Salute ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Dani e oggi siamo qui su OMSI2 Siamo sulla linea R49, con questo setra da Sasa, linea R49, setra da Sasa, si Numero 288, un po' più vecchio, vedete la targa un po' vecchia E siamo diretti a Sissel Forest Bus Bahnhof Bene, io direi che per le porte c'è gente che vuole salire Io sistemo l'actere camera intanto qua Questo qui è un autobus a marcia, ho scelto un autobus apposta per queste linee qua Che è una linea un po' di montagna E quindi... Ecco, ho preferito usare questo qui Bene, io direi che possiamo partire Perfetto, 45, salto pure la campana E ovviamente siamo a farlo rosso come sempre Allora... Diventiamo verde semaforo, dai, su, diventi verde Ehi... Mi scusi, è seguito male, signora Sam Bene... E c'è la sbarra da 100 città, traffico limitato Solo per gli autobus Verde Perfetto, vogliono salire Buongiorno 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 Il palo Ok Andiamo Perfetto Io mi mantengo largo Quindi non voglio salire sul marciapiede Perfetto 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 La gente Qua Vedete Qua Questa volta mi sono passato attraverso Vabbè Buongiorno 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 Mi piaceva bene tanto sto paesino Con le linee di autobus così Nelle strette Eh però qua La curva è un po' stretta Eh È Un po' Grazie a tutti. Bene. Strada di montagna, perfetto. Abbiamo fermato la fermata, quindi devo fermarci. E se no fa il rosso, come sempre ovviamente. Bene. 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 perfetto siamo in perfetto orario 0,5 minuti in anticipo intanto adesso li perdiamo di nuovo perchè siamo finiti al semaforo bene bene mi piace veramente tanto questa linea qua perché ha delle strade tutte un po' in salita montagna stretta e cose belle bella mi piace mi piace bella fermata in discesa grazie 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 perfetto 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 ce l'ha fatta salire qui in salita io rallento e ce l'ha fermata guarda un po' l'ha perrotata l'ha fermata qui si lamentate qui lamentate qui si lamentate Grazie. Ah, sto caricando. Perfetto. E quindi ragazzi, siamo già arrivati all'ultima frenata. E quindi anche alla fine dell'episodio. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio di aver guardato questo video. Mi raccomando lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. Condividete questo video. Mi raccomando più che potete. Questo era il nostro autobus. Perfetto. Ciao. Accompagnate fino a qui. Io direi che posso chiudere le porte. Vi saluto ancora. Commentatevi. Iscrivetevi sotto il video. Se potete sapere delle cose. Mi raccomando. Se fate venire su TS. Potete venire. Ci trovate. A me è la community su TS. Quello che c'è in descrizione. TS. Getaria. TML. E quindi. Io vi ringrazio ancora. Ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.